Qual è il grande interesse per le questioni economiche? Negli anni appena passati già l'individuare un problema era di per sé dirompente perché c'era una classe politica che molto spesso li negava, ora non li nega più nessuno da nessuna parte dei soggetti politici, purtroppo i soggetti politici hanno difficoltà a individuare le soluzioni e allora credo che l'attenzione del pubblico sia molto centrata sulle soluzioni che si possono trovare. Noi le andiamo a cercare all'estero, le andiamo a cercare anche in paesi italiani che hanno avuto delle idee diverse agli altri però credo che la grande attenzione sia sulle soluzioni. Io non credo che gli ascolti stiano calando rispetto alla politica, io ho la fortuna di andare in onda da diverso tempo, le fasi come questa sono connaturate al fare informazione, possono esserci in una fase dell'anno, in una seconda fase dell'anno però alla fine dell'anno la media è sempre la stessa, ci sono periodi di grande attenzione e periodi di poca attenzione. Ovviamente i temi politici in questo momento sono una sorta di stand by perché tutti sanno che Berlusconi deve decadere, sono quattro mesi che si aspetta il momento in cui decada dal punto di vista dell'informazione, tutti conoscono i problemi dell'economia e si aspetta che ci sia qualcosa che possa dare una soluzione, ma questi periodi sono connaturati al fare informazione. L'idea di attaccarsi all'ultimo secondo e di individuare in base all'ultimo secondo passato quella che è dal proprio punto di vista una tendenza che coinvolge l'universo, la terra, l'informazione, sono finite, è come dire che sono finiti i TG? No, i TG ci sono periodi che danno informazioni che interessano molto, ci sono periodi che danno informazioni che interessano un po' di meno, più o meno noi siamo nella media dell'anno scorso, forse un punto in meno mi pare, probabilmente l'anno scorso in questo momento succedeva qualcosa di più interessante ma probabilmente tra qualche tempo succederà qualcosa di più interessante di quello che è successo l'anno scorso, alla fine i contenitori sono i contenitori e i contenuti sono i contenuti che si rinnovano sempre. La nuova televisione non la faremo noi, quelli della mia generazione che abbiamo fatto quella di prima. Noi possiamo con umiltà aiutare la nuova generazione a intrecciare i linguaggi, a portare in Italia a una dimensione cosmopolita, una visione più larga di quella provinciale incattivita, rancorosa che predomina sulla tv generalista, la quale è ormai a rimorchio di una società che si sente perdente, che si sente chiusa e non la innova in alcun modo. Ho l'impressione che con la nostra ritirata necessaria si chiuda una fase in cui ormai dai tempi di Guglielmi, della prima Rai 3, non è che abbiamo avuto un'evoluzione creativa di cui andar fieri. Al di là dei cambiamenti stilistici, delle mode, del fatto che comunque la televisione è andata avanti in questi decenni, devo dire che per quanto riguarda l'Italia c'è ancora una cappa di censura incredibile, non ci sono spazi se non con rarissimi casi particolari oppure delle solite persone che raccontano alla gente quello che si vuole sia raccontato. Io credo che per fortuna la televisione stia iniziando una grande rivoluzione. Il superamento della televisione da parte di internet che ormai è avvenuto in America e in Germania e che in Italia segna il crollo non solo della scarta stampata, ma tutta di una serie, un certo modo di fare televisione, porterà al fatto che si applicheranno alla televisione i criteri di internet. Cioè in rete c'è questa cosa meravigliosa che i dati Auditel sono perfetti, nel senso che tu vedi quante persone entrano su quella pagina e vedi quante ti dicono mi piace. Per cui hai un indice di utilizzo del messaggio e anche un indice di gradimento del messaggio. La televisione devi cambiare sempre perché deve essere il passo coi tempi, deve cogliere lo spirito del tempo e quindi deve capirlo anche in anticipo. Non ce l'ha fatta molto negli ultimi anni probabilmente e serve una maggiore sintonia. Bisogna cambiare veloci, non c'è tempo da perdere, io credo che alcuni linguaggi che adesso la televisione sta scoprendo vanno incentivati. Bisogna capire il momento complesso che sta vivendo questo paese, che è un paese un po' in macerie da vari punti di vista, ma con una grande voglia di riprendersi. E quindi penso che se la televisione avrà la capacità di raccontarla, questa voglia di una fiammella che si riaccende, avrà fatto uno dei suoi compiti. Cioè raccontare il tempo prima ancora che il tempo si svolga. Un rapporto molto importante, molto stretto. La TV non è più la maestra che deve insegnare pedagogicamente alla popolazione come lo è stata in maniera strepitosa negli anni del dopoguerra, quando è arrivata insomma la televisione. E quindi in quell'Italia lì che doveva ancora alfabetizzarsi, unifico, armarsi. Ma deve essere veicolo di diffusione della cultura. Non una cultura barbosa, non una cultura da servizio pubblico intesa come nicchia, ma una cultura da servizio pubblico intesa come partecipazione, intesa come condivisione. La cultura è anche divertente, che attragga, che riesca appunto ad essere accattivante. Poi che cosa è cultura? Tutto è cultura, l'importante appunto è raccontare con passione e completezza. È una domanda che spesso mi fanno, alla quale io rispondo, ma quando sarò nominato ancora direttore, mi prenderò la testa tra le mani e cercherò di inventare il cosa fare. Così adesso a freddo, a freddo non so, ecco se io fossi, voglio dire, se io fossi Vianello cosa farei oggi? Ma adesso mi viene in mente una cosa, parliamo così a lungo della sinistra, non si sa dov'è. Probabilmente non si identifica in Renzi, che è il prossimo segretario, né si identifica nel Cuperlo che oramai è marmorizzato. L'abbiamo visto ieri in televisione, sembrava un piccolo monumento di quelli che sono sparsi a Villa Borghese. Allora quello che mi chiederei, cercherei di capire che cos'è, e allora farei, noi facciamo con Moretti la cosa, non so se lo ricordate. Quando il partito, quando il partito, cambiò nome e cambiò volto, allora noi cercammo di capire che cosa fosse. E allora Moretti fece uno straordinario la cosa, una delle cose che meglio si ricordano, e oggi farei una cosa del genere, andrei a capire che cos'è la sinistra, dov'è, più che cos'è, dov'è, visto che nei luoghi che conosciamo, non c'è. Progetto La F, progetto l'editore Feltrinelli, nuovo canale televisivo di intrattenimento culturale nel panorama del digitale terrestre, un modello televisivo, snello, costruito sui modelli televisivi della TV digitale di oggi, con l'obiettivo di allargare l'offerta italiana, portando temi, contenuti e mondi che rispecchiano la visione e il lavoro che l'editore Feltrinelli e il gruppo Feltrinelli hanno portato avanti per più di 50 anni nel mondo dell'editoria, della distribuzione di contenuti editoriali e così via. Un progetto che lavora sul rinnovare il linguaggio, nel raccontare la cultura, l'informazione, lavorando molto sullo storytelling, quindi un progetto che cerca di portare avanti un discorso di televisione al 100%, ispirandosi a modelli internazionali nella costruzione del racconto e nelle storie che vogliamo portare. Grazie a tutti!